I lavoratori del trasporto pubblico locale si sono ritrovati questa mattina in presidio davanti alla sede della Regione in via Genova a Campobasso per discutere di risorse e contratto secondo livello, bando gare e condizioni di lavoro. Il trasporto pubblico è cruciale per garantire un tessuto sociale ed economico sano. Eppure, nonostante le notevoli risorse dedicate al settore, questo è afflitto da condizioni di lavoro ingiuste ed inique che ledono il benessere psicofisico dei dipendenti. Questo il grido dei lavoratori. Abbiamo organizzato questo presidio per denunciare la poca attenzione che la Regione Molise riserva al trasporto pubblico locale su gomma. Noi abbiamo richiesto un incontro sei mesi fa, questa richiesta è stata purtroppo in evasa. Non abbiamo avuto modo di affrontare le questioni che il trasporto pubblico locale del Molise sta affrontando, che stanno affrontando i lavoratori del settore. Voglio ricordare che i lavoratori del settore, gli autisti, sono i meno pagati di taglia. Noi abbiamo questo triste primato che va colmato. Crediamo che vada affrontata subito questa tematica, vada data dignità, ridata dignità ai lavoratori del settore, perché non meritano un trattamento del genere. Si chiede, perché non è possibile che siamo ancora con un accordo di secondo livello relativo al 1989, se non è romane. In conseguenza sembra quasi un'autogestione che i lavoratori di tutti i trasporti del Molise stanno facendo. Da qui poi dopo una serie tematiche, quindi il tema degli appalti, perché anche qui è fondamentale. Non si riesce a capire ancora, a trovare una soluzione rispetto a una tematica che poi risolverebbe una serie di problemi dei lavoratori, ma soprattutto dei cittadini molisani.